Hi hi peeps, welcome back per un'altra settimana di Dragon Age Inquisition Nesta settimana abbiamo delle gran novità, sono andato un po' avanti, ho fatto un pochino le parti Diciamo, ho pascolato, perché mi sono reso conto che Magari cerchiamo di stare un po' più sul pezzo, sulla main quest Per chiacchierare con i nostri amici, eccetera E cercare di concludere di più, perché pascolare è un po' una rottura di palle Quindi mi sono fatto una bella pascolata, ho scoperto che Cole Può essere un membro del gruppo, e ho scoperto questa zona qua E mi sono messo questa roba gialla sulla faccia, tra l'altro Abbastanza straga, mi sa che me la tengo, sembra una cosa un po' tipo teatro antico giapponese Quelli che fanno yuuu, sembra lui Comunque, se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto Quindi vi invito a seguire il canale, se già lo fate vi ringrazio due volte Buon Natale tra l'altro, che oggi è proprio il 24 mentre registro Ma questa la vedrete da un paio di settimane sta puntata E oggi per augurarmi Buon Natale La Federazione Russa mi ha inculato l'account di Steam Un IP russo, un email russa Lo sto cercando di recuperare ovviamente con il supporto dei ragazzi di Steam Che spero siano in grado di recuperarlo Anche perché ho più di 300 giochi, ce l'ho da una vita e mi roderebbe parecchio il culo se me lo rubassero E con questo, regà, per favore, anziché scamma la gente, andate a lavorare Io direi che possiamo andare avanti Che ho scoperto qua E abbassiamo un po' il volume Che ho scoperto qua? C'è Valamar E ho fatto un po' di girio qui, no? A parte ho lasciato un po' di cosette Questi non riesco ancora a fare Poi ci torneremo Qua ci sono un po' di missioncine secondarie Ma dopo andiamo a Daven e facciamo le cose E qua ci sono i cosi E' una parte di vie profonde questa qua E ovviamente qua dobbiamo entrare Che facciamo? Non c'entriamo nelle vie profonde Quindi prendiamo e andiamo Insomma avete capito? Mi hanno fregato l'account con un metodo molto paraculo Perché tempo fa mi beccai un virus, se ve lo ricordate Del piffero che mi prese praticamente tutti quanti i dati Io scioccamente non ho cambiato la password di Steam Perché sapevo di avere Steam Guard che mi proteggeva l'account In generale cambiando il numero di telefono sull'account di Steam Guard C'è stata evidentemente una frazione di secondo In cui il mio account non aveva un numero di telefono associato E il bot russo che ancora stava lì a lavorare A cercare di loggare il mio account da più di un anno Ha pizzicato l'account in quel momento Ha cambiato la password, il numero di telefono e la mail Ma in una frazione di secondo non ho potuto fare un cazzo Ma ho proprio fregato la grande Però noi cerchiamo di recuperare st'account Voi non sapete quanto mi ero tutto il culo Adesso sto più tranquillo Adesso sto più tranquillo Ehm... come si dice? Pensieri sereni, pensieri felici Tra l'altro, cosa divertente Stasera volevamo giocare a Project Zomboid con gli altri Non potrò stare il server Perché sono del carta questi qua Mi sa che è uno del carta Cosa era sto rumore? Questa ha preso una scoccia Portacci, ma che era sto... sto rumore? Donna ragazzi Allucinanti Io sto crepando Però è bene che mi curi Lo congeliamo Alle grotto Andiamo ragazzi Andiamo andiamo Questo rimane congelato Quanti diavolo ce ne stanno Non c'era questo Vai vai con il danno Sai che dobbiamo uscire subito qua Perché la situazione è un po' grigia Abbiamo consumato già tutte le pozioni che avevamo In mezzo secondo praticamente C'era della drachita E qua l'avevo vista Insomma raga Io non ve lo auguro mai Specialmente il giorno di Natale Ironia della sorte Proprio il giorno di Natale Dove succede sta cosa Beh ma avete fatto tutto Madonna dopo devo usare le scale per risalire E tutta sta manfrina Per depredare sta persona Che addosso c'era 41 gold Non me la raccontate giusta ragazzi Almeno questo c'avrà qualcosa That's it Qua mi dice che c'è dell'altro Forse è sopra Oh cazzo ma così poco Leva di Z Ah tra l'altro ecco Ho anche rimediato lui Blackwall Che in effetti voi non l'avete visto Io mi ero perso un pezzettino Adesso non ci stavo a pensare E' stata una quest molto veloce In realtà neanche una quest Lo incontri e lo inviti ad unirsi a te Che sono queste cose qua Ah questa è cosa C'è della Questa è cosa rossa E' pieno di cosa Di Sì di roba rossa Non mi viene il nome Sì se la possiamo Delirium rosso Quindi si può andare di qua E di là Ci avrei bisogno delle pozioni Io devo dire Però vediamo un po' Per favore distruggetelo Ok facciamo dei bei danni adesso Siamo un po' Uuu Solo cunari Bonus danni critici E costituzione Quello che c'ho Mi sa che è meglio Però vediamo un po' Danni critici E' uguale E' uguale Non so se cambia Il tipo di colore Che ti mette in faccia Ma quel colorino Che ci abbiamo Secondo me è qualità Una scala Qui c'è della Drachite Secondo me dovremo Tornare indietro Per riposare Questa è una rottura Di palle Sta cosa Il fatto di dover Tornare indietro Ogni volta Almeno su Dragon Age Ci stanno bene Almeno su Dragon Age Ci è preclusa Chiunque sia interessato A cambiare la situazione Venga qui domani Un'ora dopo il mezzogiorno Sotto questo viso C'è una serie di annotazioni Basta perdere tempo Su quella maledetta porta Non mi interessa Cosa c'è dietro Il meccanismo è rotto Soprattutto a chi importa Abbiamo della merce Da spostare E vuoi scoprire? Se qualche vecchio nano Ha messo da parte Le stoviglie buone Siamo a corto di personale Se vengo a sapere Che hai portato Un altro gruppo Ai livelli inferiori Alla ricerca di quella roba Te ne farò pentire Prima di tutto Credo che questo posto Fungesse da luogo Di scambio commerciale Potrebbe esserci qualcosa Di prezioso Detro la porta Sentiamo In che modo Me ne faresti pentire Con un po' di fantasia E qualche coltello Botta e risposta Minaccioso Messaggio è carico di rabbia Prima Liska Adesso Brennor Liska mi sacra la L Di quel messaggio di prima Colto sul fatto Mentre ne rubava un po' Solo un pochino Giusto per Diceva Balle Diceva Balle Voleva certamente Guadagnarci qualcosa Pensando che non l'avrei notato Come non funziona Tuo cugino Diceva che potevamo Fidarci di Brennor Perciò pensaci tu Se non sono felice io Non vedo perché Deva esserlo lui Quindi rubavano Debredavano Sti ragazzi Come noi Pugnale sacrificale Progetto Bene Magari è figo il pugnale Tra l'altro raga Vi ricordate la cosa Degli elmi no? Adesso l'abbiamo Chiarita La settimana scorsa Ne abbiamo un po' Accennato Abbiamo fatto un po' De prove eccetera Vi tengo a Vi tengo on Ma avete scritto nei commenti Che se possono levare È vero Però raga Call Se gli togli il delmetto Non è più call Questo è il delmetto di call Puoi togliere a call Il delmetto di call Non sarebbe Non sarebbe giusto Nei suoi confronti Secondo me Allora qua si può andare Verso giù Non voglio io però Madonna Questa è scura Questa zona Voglio andare in Quell'altra buca Che c'è di là C'è anche un Chissà se quel ponte Pure si può usare Boh Black wall è fighissimo C'è l'imbarazzo Della scelta Veramente Tra l'altro Mi avete scritto Di DLC E io sto pensando Seriamente Di Di scaricare Di scaricare Di Sì Di scaricare Di comprare Scaricare DLC Per quanto Il gioco Questo rega Ve l'ho detto Ho pagato 16 centesimi E Quando c'erano gli sconti Che è zero I DLC costano 5-8 euro Eccetera Ma a me sta a piacere Così tanto Sto Dragon Age Che dico che cacchio Ma il DLC Alla fine Se li merita quasi Altra drachide Che sia questa La porta Di cui parlavano No Questa s'apre e basta Non è possibile Non è vero Che s'apre e basta Vabbè Però possiamo andare Sotto di là Io però Andrei a Recuperare Le Le pozioni Pensate Che rottura di palle Ma ti pare che devo Tornare indietro Mo E Uscire Teletrasportarmi Riposare Ritornare indietro Mannaggia La pupazza Che sucata Tocca Passare il pezzo a piedi Caricamento Uscire da qua Nanananananana E poi ci siamo Vediamo 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 un poco Speriamo che sia un caricamento veloce Magari Ce la facciamo Steam Non mi ha ancora risposto Non so che ce la farete ragazzi Ce la farete presto Stasera vorremmo giocare A Zomboid Se possibile Sarebbe una cosa bellissima Poi proprio il giorno in cui Poracci Uno dice Che cavolo la gente Se ne vuole stare con la famiglia No Bisogna rubare gli account E chiamare Tra l'altro Steam Non ha l'assistenza clienti Sappiatelo Se doveste avere problemi Sappiate che non c'è assistenza clienti Per Steam Ah mi tocca pure Fammela a piedi Per andare lì Mortacci De pippo Non ha l'assistenza clienti Steam Ma Ha un buon sistema di ticketing Rispondono piuttosto velocemente Ci mettono circa due ore Tre ore In media Quindi sono piuttosto rapidi Però se vi aspettate Di poter fare la telefonata Vecchia scuola Non si può fare Che secondo me È una gran cagata Perché Steam Comunque sia È grosso È molto grosso E se ce l'ha Quella merda Dell'Epic Store Potrebbe avercelo anche Steam Insomma Infatti stavo leggendo Perché stavo cercando Un numero da chiamare Leggevo la gente E diceva Eh ma Steam C'ha troppi utenti Come fanno Fanno come l'artri Piano e aprono Cosa Sto pure andando In una direzione sbagliata Piano e arzano la cornetta E rispondono E se serve tanto personale Pagano tante persone Fanno tanti di quei sordi Qual è il problema Si fanno un investimento Sulla qualità Del Ma perché La state uccidendo Ma che va fatto De male Madonna Che bei danni Adesso che siamo livellati Va tutto Molto meglio Dai va che si Adesso finalmente Facciamo dei danni Ragguardevoli Ai cose Ci serviva qualche livello E qualche armetta Call Se è bloccato così Quindi insomma Visto che è scitto Sempre su Epic Quando 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 ne parliamo Questa volta Spezza una lancia A favore di Epic Da questo punto di vista Hanno sistemato Una situazione migliore Per quanto Conosco personalmente Svariate persone Che lavorano Al customer care Di Epic E vengono pagate Una miseria E lavorano come Dei poracci H24 Quindi mi dispiace Per come vengono trattati Però è buono Che ci abbiano L'assistenza clienti Se magari pagassero Quello che si meritano Sarebbe pure Una bella cosa Perché sai com'è Anche noi voracci Abbiamo bisogno De mangiare De beve E quindi purtroppo Dobbiamo Dobbiamo sopravvivere Dobbiamo sopravvivere Li pagano molto poco Li pagano molto poco E cercano Persone In giro In paesi Magari Dove Che ne so Costa poco La vita E quindi ti possono Pagare di meno Fanno ste furbacchiate Qua Non vi dico il nome Dell'azienda Che conosco molto bene Per la quale ho anche Lavorato per un breve periodo In realtà Non è anche tanto breve Per una Quasi due anni Però diciamo Che se devono scegliere Tra Tra te Sconosciuto Preferito Su Youtube Sull'internet E un Indiano Che parla appena L'italiano Ma Vi costa Un euro l'ora Ovviamente Vanno con l'indiano Che interessa Della Della qualità Questi sono responati Però ragazzi Cioè Mollatemi un attimo Quindi Ino global Cominciamo anche un po' A capirli piano piano Con gli anni Passano gli anni Dicendo Che c'hanno Proprio tutti i torti Comunque i cc sono importantissimi Perché non potendoci curare E' bene che i nemici Rimangano per terra All'infinito What Ma questo che girava Ok la porta qui Tanto avevamo visto Che non si poteva Fare in realtà Quindi tocca Andare De sopra Tocca Andare De sopra E fai E fai Da con questi Dove stanno Stanno dentro Mi sa Però se ignoriamo la cosa Non dovrebbero rompere i coglioni Meno male No ma ce n'erano due di porte Qua Mmm Il fatto che ce ne siano due Però Mettiamo di mega stunnarli tutti Nice Siamo devastati questi Ma proprio Come se non esistessero Incredibile Collo una belva comunque Fa un pacco di danni Tra l'altro A collo Gli ho dato un paio di lame Veramente buone Ah vedi che ce lo stavamo Ma perde questo Dovremmo essere abbastanza sicuro Degli stranieri Mi preoccupa di più La possibilità di Attirare parole oscure Dai livelli inferiori Sì Yes Non abbiamo Come di nessufficienza Per spingere Tenete il prodotto Ai livelli superiori Barricate il ponte Io voglio vedere Aha Aha Mmm 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 Bomba di pece Crea una melma Che rallenta i nemici Ah Mmm No questa è merda però Non questo Questo qua è una bomba Buoni po' Mi devo cambiare Oh Oh Devo livellare Devo livellare Vabbè vabbè Buono però Eh mazza Non l'avremmo visto Se non avessi guardato La minimappa Figata Ci piace Andiamo di sotto Andiamo di sotto Ma adesso tra l'altro Oggi è 24 Penso Questa cosa dell'account Rosicherò dal 24 Fino al Ce ne stanno un botto Io uccido Prima i tizi Del carta Perché mi stanno Sui coglioni Poi facciamo Darkspawn Magari evito Anche di creparci Divertite da ghiacciato E' molto più Il combattimento In realtà Una volta che lo sgami Se avessero levato Sta cosa della R Avessero messo Semplicemente Che il PGA Ti attaccava Sarebbe stato meglio Però è un po' Lì davanti Ci stanno dei tizi Del carta Vediamo di farceli Se riusciamo Perché li vedo Belli tozzi E' un po' MMO esco Come Vai danni 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 Mortarci E' un po' Non so come facciamo a farli, vabbè che non ho fatto Me so sbagliato e non ho fatto la tempesta subito Però, mortacci O li pullo di fuori, potrei provare a fare quello Però gli faccio un pacco De danni con gli AOE a questi, eh Ok Questo l'ha ghiacciato, che è pericoloso E' il capo del carta, quello, eh Ah, l'è andato giù, dannazione Ah, call, vai Vai giù, va Eh Deve fare, devi Call, vai a tirare su pure Blackwall Anzi no, 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 tu attacca questo Mamma mia però sta Sta telecamera Eeeh, vai tu a tirare su questo Abbiamo fatto fuori il capo del carta Sì, allora call Non mantenere nessuna posizione Ma è addosso a questo Attacci che crocca Oh C'è anche un Urlock in mezzo alle palle Scappa qua tu Lui è andato giù Tira su lei L'Urlock fortunatamente dovrebbe andare giù tranquillo Potere più tre Non è stato facile Però questo è stato uno dei pochi combattimenti In cui effettivamente ho dovuto un po' Diciamo Prendere il target giusto Fare un po' di cosine accorte Diciamo Qua regà Io spero che non ci sia più nulla Perché se no Anello dei triboli migliorati Questo lo possiamo mettere sul coso che c'ha i triboli Abbiamo livellato Ordini per le operazioni al lago Supervisione alle operazioni al lago Assicurati che tutti facciano il proprio lavoro Ignora le lamentele sulla fauna Porta con te Liska Impegnala in qualche modo Ultimamente è strana Si lamenta di cose assurde E se non riesce a concentrarsi sul lavoro Sai cosa fare Falla fuori ovviamente Liska Potrebbe diventare la nostra amica Liska Rapporti sulle attività nelle terre centrali Ah no Hanno livellato tutti e tre loro I soldati appartengono a una certa inquisizione Hanno aiutato I profughi vicino a Redcliffe Hanno esplorato le zone circostanti Ma non si sono avvicinati troppo a noi Ancora nel momento Con loro c'è qualcuno che sa come chiudere questi squarci Dicono che sia una specie di profeta Invasati, zelanti La cosa più bizzarra è che appartiene alla razza dei cunari E' carino questo anche Sono tornati a fare una cosa molto bella che c'era nell'1 Mentre il 2 era un po' fatto così, un po' veloce C'è questa cosa Cioè è personalizzato il gioco, no? Nel senso parla del cunari Adesso magari dice qualcosa sui cunari Se fai un umano non avrebbe detto quello Avrebbe detto un'altra cosa E' bello che il gioco comunque Segua e cambi in base a quello che facciamo E Dragon Age Inquisition ci riesce molto bene Per il momento Vediamo però Penso che sarà Stonx Quello che è successo a Haven Deve essere stato più assurdo di quello che pensavo Dal momento che uno dei loro membri intercede per il loro dio Tenere d'occhio questa persona Non sarà un problema Dal momento che i cunari non si mischiano facilmente con la folla Se i mercenari faranno il loro lavoro Sarà tutto apposta Ci stavano guardando Ebbene sì Call Call scoppia un po' troppo facilmente Io voglio mettere un punto su Vediamo un po' La propria speciale Gli occhi del nemico costringendo da dormire per breve tempo Nah Questa qui tanto so che se non la usi tu E la usa l'omino in automatico Fa un casino Più tre astuzia Questo non è male Attacco d'ombra Colpisci con un attacco a sorpresa Se colpisci il nemico che non ti sta puntando Recuperi vigore Parsi lontano agli attacchi in arrivo Ok Posizionandoti nel punto in cui lo scontro è più facile Ok Mi fido Va bene Lo prendo Poi voglio l'imboscata Che così abbiamo la penetrazione dell'armatura Voglio provarlo Questo vediamo un po' Tra l'altro gli devo livellare un po' ste altre cose Perché il veleno sono cose belle e ignoranti E questa è una quest Nota personale scritta sul libro mastro Non è male che Anche se è rosso Con i templari che hanno tagliato i ponti con la chiesa Dovremmo trovare acquirenti Piuttosto facilmente Però deve essere l'acquirente giusto Non qualcuno a cui vengano in mente idee strampalate Siamo noi che dobbiamo controllare la distribuzione Gran parte delle vene sono vicine alla superficie Ce ne ha sufficienza Ma se riuscissimo a trovarne una più in profondità Una fonte Sarebbe un bel colpo Per il momento dedichiamoci all'operazione attuale Poi penseremo a espanderci Io comunque credo che quando torniamo a Haven Possiamo potenziare la quantità di pozioni Che ci portiamo dietro Lo spero Congegno nanico Dovevamo trovare i congegni nanici nella cripta di Valmar Ok Ah Eccolo Vanno messi qua e apriamo la porta Certo L'accordo della città oscura Chiedete ai nobili di Orzamar Come faccia il loro regno a procurarsi seta, grano e vino Ogni tanto si commercia con la superficie Risponderanno Così Senza il minimo coinvolgimento di mercanti o contadini umani Un piccolo miracolo di ingegnosità nanica Peccato che la realtà sia molto diversa dalle loro fantasie Orzamar commercia con la superficie Non solo per prosperare Ma per garantire addirittura la propria sopravvivenza L'epoche dei flagelli hanno strappato migliaia di taiga ai nani Migliaia? Così tante Ma ce n'hanno dodici Migliaia di taiga Quanti cazzo ce n'hanno di taiga? Quanto spazio c'è? Quanto è grossa la villa? Quanto sono grosse le vie profonde? Arrivano veramente su Baldur's Gate 3 Il regno nanico che visse per tempo in memore solitario Indipendente sotto la pietra Perì durante il primo flagello Venendo relegato nella leggenda Oggi i nani rimasti nel sottosuolo Sopravvivono grazie ai canali che Vabbè abbiamo capito Che i senza casta hanno aperto con la superficie I senza casta Di cui fanno parte parecchi personaggi interessanti nell'uno E di cui potrebbe far parte anche il vostro personaggio Se lo fate Se lo create quando lo create Scegliete di farlo senza casta Ed è anche tra l'altro uno start molto interessante Quello di senza casta Se non l'avete fatto provatelo Ogni nano che raggiunge la superficie Diventa un senza casta Esiliato ed escluso per sempre dalla società nanica Eppure Orzamar deve mantenere un contatto Con questi esuli per sopravvivere Ciò ha creato una zona d'ombra Nelle attività politiche e commerciali In cui i nani più ricchi e potenti Intrattengono rapporti segreti Con individui che almeno ufficialmente non esistono più E nell'ombra possono celarsi mille insidie Il carta vive nel ventre della superficie come un parassita Molti nani di superficie continuano ad avere legami Non ufficialmente riconosciuti Sebbene rispettabili Con le loro precedenti casate Della casta dei nobili e dei mercanti O dei mercanti Ma senti questi rumori di sottofondo Ma l'audio è una bomba Quelli privi di qualsiasi legame Perché vabbè Aspetta No no Qualche dice Contatti che garantiscono scambi commerciali con Orzamar Quelli privi di qualsiasi legame Perché reputati dalle loro famiglie O da sempre ai margini della società Si recano personalmente nel sottosuolo Per commerciare con Orzamar E qui Sono trattati come criminali A Orzamar Tutti senza casta Anche quelli cacciati Non è un'unice Vabbè lo sapete no Che c'è il quartiere della polvere Per questo i mercati della superficie Si rivolgono al Carta Che si offre come intermediario Per la vendita di prodotti della superficie Al mercato nero Dietro compenso ovviamente Il Carta vuole sempre ciò che gli spetta Spesso i cittadini scandalizzati di Orzamar Si rivolgono al concilio Invitandolo a sradicare il crimine Che dilaga intorno al mercato nero A queste petizioni Seguono delle retate nei copi del Carta E nell'interno distretto della polvere Che distretto della polvere Ovvero non è il quartiere Ma sono azioni puramente simboliche Il Carta ritorna sempre E questo perché è lo stesso concilio A permetterlo Perché ovviamente serve I nobili sanno fin troppo bene Quanto Orzamar dipende dal mercato nero Ognuno di essi fa affari con il Carta E di conseguenza contribuisce al suo successo In superficie e nel sottosuolo Il Carta è rappresentato Da centinaia di volti irrispettabili Onesti mercanti Bla 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 Come si dice Segretari di partito E chi più ne ha più ne metta Dietro cui si nascondono altrettanti contrabbandieri Ladri, assassini Eccetera eccetera Vabbè la solita storia Niente di nuovo Niente di nuovo Guarda questo potrebbe stupire Magari se lo legge Che ne so Se stai giocando Dalla Norvegia Leggi in norvegese Dici Oh madonna che corruzione Questi carri Sono felice che in inquisition Però si approfondisca un po' la cosa Perché nell'1 e nel 2 Era un po' sfuggente La faccenda del Carta Vagamente sfuggente Allora lui lo sto facendo Arma a due mani e condottiero Visto che la nostra scudata Era avanguardia E spade scudo Però potrei fare anche tutte e tre Potrei fare anche tutte e tre Forza più tre Ti cimenti in un attacco rapido Che stordisce il bersaglio Per breve tempo Durata stordimento Tre secondi Breve tempo Veramente Breve tempo Tre secondi Con l'arma Di nemici Questo fa Ma in realtà sai che c'è Questo Questo toglilo Mettimi Ma vaffanculo Mettimi questo Perché quello Alla fine 70% del danno Dell'arma Sti cazzi Invece tre secondi Di stun È possente Regà Stavano messi male Stavano messi male Ah devo livellare pure lei Questo In realtà Questo è una merda Che mi frega a me Di muovermi Mentre sparo Cioè What the fruits Perdono Temporane Perdono Temporane In te sensi Dormono Per 20 Secondi What Ma il problema È che se i tuoi omini Però attaccano in automatico Lo slip È una cosa particolare Perché a differenza dello stun Ovviamente È un po' meno reliable Perché prevede che tu Quando Slippi qualcuno Abbia un party dietro Che non tocca Il tizio che dorme Perché sennò lo svegliano Cosa che succede Per esempio Gioco Giocate sicuramente Alcuni di voi Gioco League of Legends Lo slip Ce l'hanno alcuni personaggi Molto figo Sulla carta Ma tanto Ci sarà sempre Se non sei su Discord A parlare E anche su Discord Lo tolgono Ci sarà sempre qualcuno Che vale E fa Ticch E dà una botta E lo sveglia E quello Non lo uccide neanche Capito Sempre Sempre così No aspetta Aspetta Indietro Questo cosa fa Trapassa tutti i nemici Sul suo percorso Infliggendo danno e bonus Per ogni bersaglio Che Questo è buono Questo è buono Per esempio A lei avevo preso queste Le trappoline Anche questo Che aumenta il danno Delle tossine Andiamo con questo Le voglio far fare Un pacco di danni A lei Tra una cosa e l'altra Vediamo se riesco A Andare Secondo me No Troppa roba Quaggiù Figurate Già li vedo là in fondo Già li vedo là in fondo Ma scusa Ma il gioco Come si aspetta Che io faccia Tutta sta strada Senza tornare indietro Ma è ovvio Che torno indietro Proviamo a tirare Una freccia Facciamo che me ne vado Facciamo che me ne vado Faccio riposare i boys E poi ritorno qua Che ne pensate E con la magia Del Del taglio Ritorniamo direttamente qua Grazie a tutti